Anche questa è una di quelle domande che viene fatta spesso soprattutto dai possessori di camper un pochino più datati. L'obbligo delle cinture di sicurezza per quanto riguarda le autovetture è da parecchio che è attivo. Per quanto riguarda gli autocaravan, i camper, invece sappiamo che soprattutto negli anni 90 uscivano con la parte anteriore, quindi la cabina, dotata già di cinture di sicurezza perché facevano parte proprio della dotazione dell'autoveicolo, dell'autotelaio, mentre nella cedula, siccome nei primi anni 90 non era ancora del tutto obbligatoria, alcuni veicoli nascevano con una predisposizione e altri veicoli non avevano nessuna predisposizione. La normativa, che è stata chiarita tramite una circolare del 2000, dice che un veicolo che è dotato di punti di ancoraggio per poter montare le cinture di sicurezza deve montarle per poter trasportare dei passeggeri. Se il veicolo invece non è dotato di punti di ancoraggio, in questo caso non può montarle. Naturalmente per montare le cinture di sicurezza dovete rivolgervi al vostro meccanico di fiducia che controllerà nell'eventuale cassa panca del vostro camper se è previsto già dei punti di ancoraggio, una struttura, una gabbia metallica dove poter installare le cinture di sicurezza e quindi in quel caso se potete installare le cinture di sicurezza sarà consentito anche trasportare i bambini perché poi la normativa dice che per trasportare i bambini sotto il metro e cinquanta è obbligatorio avere i seggiolini. Se non potete mettere i seggiolini perché il vostro veicolo non è dotato di cinture di sicurezza, in questo caso non potete caricare i bambini sul vostro camper che non è dotato di cinture di sicurezza. Quindi la normativa in sostanza taglia fuori i vecchi camper che non hanno le cinture di sicurezza dal poter trasportare bambini, mentre un veicolo che non è dotato di cinture di sicurezza e non ha nemmeno gli agganci per poterle montare può trasportare comunque i passeggeri maggiorenni o comunque sopra il metro e cinquanta. Quindi attenzione se avete bambini e volete comprare un camper diciamo vintage o comunque con qualche anno fate attenzione a questa cosa. Ovviamente se davanti ci sono le cinture omologate è possibile che i bambini con seggiolini siano davanti, comunque davanti un bambino e possiamo portarlo con seggiolini. Per chi ha un figlio nel caso dei Ducato, nel caso di alcuni transit vecchi che hanno la poltroncina a due posti, un pochino magari più fortunato può mettere due bambini, lì dipende da che veicolo avete. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti